Buongiorno, per Notizie di Abruzzo siamo a Pescara in compagnia dell'assessore Nicoletta Eugenia D'Inisio. Allora, lei questa mattina ha partecipato ad un'iniziativa importante per il 14 febbraio, il giorno di San Valentino, declinato nell'amore e in questo modo per l'amore verso gli ultimi. Lei è stata nella sede della Caritas, ci può parlare di questa iniziativa molto importante per lei e per il suo assessorato? Sì, infatti ieri abbiamo fatto questa conferenza stampa perché questo assessorato insieme a questa associazione abbiamo per la prima volta portato questa novità a More e anche alla Caritas per i Senza Fissa di Mora e all'Anfas che è un'associazione per disabili di età adulta. Allora, questo per dare anche a loro la necessità di darci all'esterno un loro pensiero sull'amore. L'iniziativa di questa mattina si è tenuta nella cittadella della Caritas con la poetese e scrittrice Federica D'Amato. Come si è svolta il confronto con queste persone ospiti della cittadella? Allora, un tavolo fluo con due sedie fluo, la scrittrice che faceva, dava l'opportunità di fare dei racconti che più premevano la persona, che più sentivano e lei poi li realizzava in una poesia. Cioè quindi racconti di vita che poi si trasformavano grazie alla poetessa in poesie. A suo giudizio c'è necessità di questo confronto su argomenti che non siano tecnici ma siano anche così emotivi e sentimentali? Io credo proprio di sì. Credo di sì perché oggi viviamo in un momento dove abbiamo solamente, leggiamo solamente, notizie di aggressioni sia verbali che visivi. Sentiamo e leggiamo aggressioni sulla donna e quindi penso che ci sia proprio bisogno di dare questo segnale e di dare questa sensibilizzazione a tutti. Lei è in prima linea come assessore al sociale su molte tematiche anche difficili, dure, talvolta da ascoltare. Quali sono i fili conduttori del suo ottimismo verso questo mondo così difficile da affrontare? Guardi, tutti i giorni io ho a che fare con persone che hanno bisogno e che mi fanno dei racconti veramente che non vorrei mai ascoltare. Sono ottimista perché io credo che se tutti noi ci impegniamo in una divulgazione, è difficile, però ci proviamo a divulgare e dare amore anche solo con l'ascolto, io credo che possiamo fare tanto. Quindi oggi è stata una giornata di ascolto di San Valentino, ripeterà l'iniziativa anche su altri settori, in altri contesti? Se mi sarà possibile sì, volentieri perché io questa iniziativa la ritengo veramente bella, bella e la voglio rifare, sì. Prossimo appuntamento con l'assessore Nicoletta Eugenia Dinizio? Ce ne sono tanti di progetti, tanti e questo poi vi darò modo di farvi tornare da me e di dirvelo. Grazie a tutti.